bentornati nella mia cucina si chiama mai dire dieta perché io detesto quella parola dieta un inizio a una fine quando finisce che cosa succede torniamo a mangiare quelle che non era buona non nutritivo per il nostro corpo ma qua impariamo non soltanto ricette buone e gustose impariamo anche le buone regole di una buona tavola e per me è molto bello avere amico come gaudenzio calabrese ciao gaudì ciao gill ciao a tutti gli amici a casa allora io chiesto gaudenzio di darmi una grande mano con la sua arte perché è un artista la possiamo dire un artista da quanto riguarda i dolci sei veramente bravo con i dolci e chi non ama i dolci dimmi chi non ama i dolci io non conosco uno credo nessuno insomma un po di dolce c'è sempre in qualunque pasto dalla colazione al pranzo al mezzo pomeriggio chi è che non fa magari un piccolo spuntino con un dolcetto con il caffè eccetera e quello che proprio facciamo oggi è dare un'idea a tutti i nostri amici di qualcosa che può essere fatto sia come un dolce tipico dopo pranzo ma anche come una colazione infatti perché siccome le nostre puntate andranno anche in onda in diverse fasi della giornata qui noi potremmo utilizzare questa ricetta a prima colazione al tè del pomeriggio alle cinque o altrimenti come un dolce da portare a una festa ma anche per i bambini secondo me allora spiegaci che cosa ci ha portato oggi allora oggi andiamo a preparare insieme dei cestini di cereali quindi possiamo utilizzare cereali classici quelli che poi non so riso soffiato farro soffiato oppure quello che utilizziamo oggi noi è un muesli classico quello che siamo abituati ad utilizzare nello yogurt, gille, colazione eccetera il muesli quello che ci ricorda proprio la mattina però il muesli da punto di vista nutritivo è ricchissimo il muesli è sempre utilizzato nelle montagne dai montagnari, dai alpinisti perché ha un altissimo apporto proprio nutritivo per il corpo per dare energia, fibre, vitamine, sali minerali così in questa puntata impareremo anche quello che fa il muesli per noi ma come assembliamo questo, no aspetta prima di assemblare andiamo a scoprire insieme gli ingredienti di questa ricetta per i cestini di cereali con crema al yogurt e frutta ci servono 150 grammi di cereali che potrebbero essere avena, cornflakes, muesli, comunque a scelta una banana e 70 grammi di miele per la crema al yogurt ci servirà yogurt greco, miele cubi, panna di soia che è facoltativa frutta e cioccolato per decorare allora andiamo a scoprire insieme Gaudi come si preparano questi gioielli allora Gil andiamo a preparare la base dei nostri cestini utilizzando non il classico burro perché noi parliamo sempre di un regime alimentare gustoso ma leggero quindi andiamo a sostituire il burro che serve ad amalgamare in questo caso anche i cereali con una classica banana, Gil se mi passi la nostra bella banana che deve essere bella matura ma posso anche fare una premolatura, guarda io se schiaccio la banana già mi sto portando avanti così quando lo apre, poi l'altra cosa è molto importante, delle banane ragazzi di non far toccare mai l'interno con la buccia dobbiamo sempre far finta che si cade, cioè mai toccare questo è fondamentale per quanto riguarda i batteri è qualcosa che potrebbe essere al di fuori della polpa ok, questo è molto importante perfetto, quindi una volta che abbiamo anche già pre-schiacciato la banana prima di sbucciarla, noi andiamo a finire di fare una piccola cremina ecco con la banana all'interno di un piatto, di una bulla, insomma di una ciotola che ci servirà ad elegante infatti andiamo a prendere adesso i nostri cereali quello che avete utilizzato, che avete a casa quindi il muesli in questo caso ricordiamo che è ricco anche di frutta secca ci sono anche delle norciole quindi per la mattina esatto, mattina in gergo medico scientifico buono ok versiamo tutto si, 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 vestiamo tutto anche perché andiamo a fare proprio una piccola amalgama e andiamo nel frattempo, Jill, se mi dai una mano in questo andiamo a mettere anche del miele quindi vai, ancora allora, quanto a nostro piacimento o perché serve per legare? no, e anche questo serve per legare perché siccome questi cestini li andremo a cuocere nel forno quindi anche se a una temperatura bassa il miele quindi farà da proprio collante con la banana e con, basta così, va benissimo no, va benissimo così ok, perfetto quindi avete poi comunque tutti gli ingredienti le quantità, eccetera quello che ci servirà per fare i cestini nella maniera più giusta una volta che noi abbiamo realizzato, diciamo, il composto quello che facciamo è prendere dei pirottini classici quindi da muffin, insomma e da... si posso aiutare? si, assolutamente allora, procedimento è? mettiamo all'interno un paio di cucchiai e poi con il cucchiaio ci aiutiamo e facciamo proprio un cestino esatto quindi copriamo i lati, i bordi e anche il fondo ok è perfetto e proviamo di farlo tipo sollevare sui fianchi? esattamente così possiamo anche lasciarlo irregolare e girlo perché tanto comunque ci servirà anche per una presentazione diciamo un pochino più moderna e anche veloce perché poi questo è qualcosa che possiamo realizzare tutti velocemente a casa abbiamo impiegato tre minuti è semplicissimo allora nel frattempo che noi prepariamo il nostro cestini ragazzi andiamo a scoprire insieme proprio le proprietà nutritive delle nostre star di questa puntata banana controllo dell'acidità gastrica funzione digestiva aumentano il senso di sazietà con moderati livelli di zucchero nel sangue benefiche per il cuore perché è ricco di potassio antidepressive e riducono lo stress grazie al loro importante contenuto di triptofano un aminoacido che il nostro corpo converte in serotonina proteggono lo stomaco dalle ulcere e nelle culture cinese associare una persona ad una banana rappresenta un segno di disprezzo la metafora che indica giallo fuori e bianco dentro si attribuisce solitamente a coloro i quali hanno origini cinesi ma non conoscono e non apprezzano la loro tradizione i benefici del miele le proprietà medicinali del miele sono conosciute fin dall'antichità l'utilizzo dei prodotti delle api per curare le malattie viene attestato già da pitture rupestri risalenti a 8.000 anni fa è utile contro tosse e mal di gola è un incredibile energizzante e anti-age si può addirittura utilizzare il miele come maschera ripara i tessuti e agisce contro i batteri è un antinfiammatorio naturale e aiuta il stomaco e l'intestino gli effetti benefici del miele quindi sono tantissimi passerebbe consumarne un cucchiaino al giorno per avere tanta tante salute in più il vantaggio del cibo integrale aumenta il senso di sazietà facilita il transito intestinale riduce l'assorbimento di grassi e colesterolo altri vantaggi importano derivano dall'aumento dell'apporto di vitamine E che è fondamentale per la nostra salute e di alcune vitamine del gruppo B inoltre i cibri integrali hanno un indice glicemico ed un contenuto calorico inferiore e sono pertanto indicate nelle diete dimagranti a condizione che l'integrale non diventi un pretesto per mangiare di più poiché le differenze caloriche tra i due elementi sono tutto sommato modeste il cacao ha un potere antiossidante ORAC tra i più elevati in assolute un indice di valore pari a 80.933 circa 19 volte più potente di una mela che notariamente viene considerato un ottimo antiossidante le qualità del cacao sono varie è indicato in quanto energetico leggermente stimolante e secondo alcuni studi avrebbe anche virtù antidepressive sempre nella nostra cucina andiamo ad indagare non solo sulla ricetta stessa ma sulle proprietà nutritive degli alimenti e non c'è esperto migliore che il dottor Sascha Sorrentino che sta con me che ha scritto tra l'altro mai dire diete con me allora Sascha è sempre bello vederti ciao Gili grazie anche per me è molto bello vederti ok quali tipologie di carboidrato dobbiamo prediligere? eliminiamo cerchiamo di ridurre al massimo tutto ciò che è raffinato quindi tutto ciò che è bianco ok perché non ha chissà quante proprietà nutritive e poi ci genera tra virgolette dei problemi anche a livelli di picchi insulinici picchi glicemici e quant'altro non solo anche per il nostro microbiota intestinale molto meglio scegliere quindi dei prodotti non raffinati perché comunque il chicco mantiene poi tutte quelle che sono le proprietà nutritive e questo è dimostrato anche da tantissimi lavori scientifici che comunque mangiare un cereale integrale quindi non raffinato ha un impatto sicuramente positivo sul nostro intestino perché aiuta il nostro intestino a lavorare meglio perché c'è il prebiotico esatto allora noi sentiamo spesso e volentieri parlare dei probiotici che sono fantastici le troviamo nelle yogurt le troviamo nel kefir ma il prebiotico è la fibra e la fibra noi non l'assordiamo corretto? quello che permette poi alla fine al probiotico di attaccarsi e di funzionare senza una cura corretta prevede sia l'innesto con i prebiotici che poi con i probiotici diciamo che per fare una cura completa c'è bisogno di tutti e due fermati là perché abbiamo tante tante puntate da portare avanti tanti tanti consigli e non abbiamo abbastanza tempo allora oggi ti saluto con questo grandissimo consiglio ma indagheremo puntata dopo puntata con Sascha Sorrentino di questi chicchi che sono veramente importanti per la nutrizione perché qui a mai dire dieta non stiamo facendo soltanto consigli alimentari o ricette stiamo imparando come affrontare la tavola con consapevolezza a fra poco grazie io spero che voi state divertendo quanto noi ad imparare quanto fa bene il cibo il cibo è il nostro carburante il cibo può anche nutrire il nostro genoma si chiama nutrigenoma che vuol dire la prima 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 regola della salute è mangiare bene allora Gaudi andiamo a finire questa meraviglia perché è un passepartout sì assolutamente un passepartout poi come diciamo sempre anche nei nostri appuntamenti la cucina deve essere anche e vuole essere un piacere di preparazione perché spesso noi andiamo di corsissima veloce allora le cose pronte non ci dedichiamo più di tanto queste invece sono delle piccole ricette e dei consigli che in pochissimi minuti abbelliscono anche la nostra tavola allora vi facciamo vedere il cestino primo della cottura allora per quanto tempo devi cuocerli? allora 20 minuti in forno più o meno a 160 gradi poi controlliamo ovviamente il nostro forno l'importante è che non diventino croccanti perché è un dolce diciamo che va utilizzato morbido sia per la colazione che per il dopo pasto quindi non li facciamo diventare croccanti la consistenza deve essere come si dice gooey in inglese meraviglioso tutto come il biscotto ok aspetta ragazzi perché noi abbiamo il forno magico siete pronti per il forno magico di My Day di Dieta? uno e due e tre vai eccolo forno magico forno magico aspetta oh no perfetto forno magico no sono bellissimi allora questo è il risultato quindi dopo i nostri 20 minuti assolutamente i 20 minuti di no no ragazzi guarda sono morbidi morbidi appunto giusto riusciti vedi che io riesco non voglio rovinarli però è morbido buono 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 molto molto buoni molto gustosi poi ricordiamo che c'è il miele quindi per zuccherare per cui il gusto sarà sicuramente diverso da quello che abbiamo utilizzando lo zucchero classico ok in questo caso adesso facciamo vedere una preparazione per la colazione come dicevamo prima perfetto ok quindi a colazione i cereali ci sono il miele ci sono Gil prendiamo dello yogurt greco sì quindi magro in questo caso aggiungiamo anche qui a piacere perché può essere utilizzato anche senza il miele in questo caso mettiamo un cucchiaino di miele o sciroppo di acero o sciroppo di acero e lo so che sciroppo di acero è una cosa non tipicamente italiana però è uno sciroppo naturale che viene dagli alberi ed ha un gusto caramellato naturale è pieno di fruttosio a meno glucosio esatto quindi semplicissimo Gil andiamo ad inserire un cucchiaio di questo yogurt con miele o semplice yogurt greco ricordiamolo quindi manteniamo uno yogurt magro all'interno dei nostri cestini e dopodiché quindi possiamo mettere velocemente della frutta per decorare ok e questa tu io continuo a decorare esatto e tu prepari l'altra versione allora l'altra versione come? l'altra versione abbiamo utilizzato anche in altri appuntamenti uno spalmabile leggero quindi un formaggio spalmabile amalgamato con un po' di panna di soia proprio per creare l'effetto panna diciamo mettiamo all'interno di anche in questo caso di una sac à poche il nostro composto quindi spalmabile semplice e panna e andiamo con una piccola bocchetta decorativa andiamo a fare la nostra decorazione sul nostro cestino molto semplicemente è invitantissimo eccolo qua Gil però ragazzi a casa questa è la prima collezione questa è magari anche per una festa dei bambini secondo me si impazziscono perché adesso vi facciamo vedere la rivelezione siamo pronte uno due rivelezione e questo è il risultato con la nostra cremina e panna che abbiamo appena utilizzato che possiamo come vedi Gil aromatizzare anche con un po' di cioccolato o di cacao rimani lì perché posso aggiungere no io voglio aggiungere perché immagini i bambini che ci fanno questi dolci con noi che si divertono che imparano che la cucina non deve essere grassa non deve essere pesante per essere buono e posso mettere assolutamente si dice nel ciliegino sulla torta io metto una fragola sulla torta e finiamo questo gioiello per gli occhi e gioiello per il nostro sistema immunitario e non solo qui e mai diridete grazie Gaudenzio grazie a te grazie a te